Celebrato in tutta la Calabria il 68esimo anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, a Catanzaro la solenne cerimonia, aperta dal lino di Mameli, si è svolta nel Parco della Biodiversità, dove il prefetto, Raffaele Cannizzaro, ha deposto la corona dall'oro ai piedi del monumento ai caduti. Quindi è stata data lettura del messaggio del capo dello Stato, Giorgio Napolitano. Il Presidente della Repubblica ha rivolto un pensiero a tutti i militari italiani che hanno sacrificato la loro vita al servizio del Paese. Ad assistere alla manifestazione centinaia di persone e autorità civili, militari e religiose della provincia. Come centinaia erano anche le persone presenti a Vibo Valencia, nel piazzale del monumento dedicato ai caduti. In prima fila i sindaci di tutta la provincia, con i gonfaloni e le autorità militari in alta uniforme. Poi, sulle note del silenzio, il prefetto Giovanni Bruno, accompagnato dal comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, colonnello Daniele Scardecchia, ha deposto la corona dall'oro ai piedi del monumento. Al termine della cerimonia, i partecipanti si sono trasferiti nell'auditorium della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato, per assistere al concerto dell'orchestra Fausto Torrefranca di Vibo, che ha aperto la manifestazione con l'inno di Mameli. Quindi, sono state consegnate le onoreficenze al merito concesse dal Presidente della Repubblica. La celebrazione di oggi è un momento di appartenenza e di unità, che deve accomunare tutti gli italiani, così il prefetto Giovanni Bruno. Avvicinare certamente la cittadinanza alle istituzioni e alle formule che indicano la presenza del nostro Stato, con tutto quello che può essere il simbolismo che rappresenta appunto la nostra Costituzione, la nostra forma di democrazia. La massima autorità territoriale del Governo si è voluta anche soffermare sull'eccellente esibizione dell'orchestra Fausto Torrefranca, diretta dal maestro Gianfranco Latorre. Un polo musicale, culla di talenti che provengono da ogni parte del mondo, che merita di essere valorizzato. Ringrazio certamente il Conservatorio per la grande prestazione che ci ha voluto omaggiare, anche perché poi alla fine a Vibbo esiste solo un'università, che è quella del Conservatorio, poco forse conosciuta, poco apprezzata, ma certamente da valorizzare. Io cercherò di fare in modo che venga riaperta più presto una struttura in grado di poter dare a tutti i cittadini della provincia in grado di poter ascoltare la bravura di questi ragazzi che si vengono a formare presso il Conservatorio.